ciao a tutti e bentornati sul canale oggi nuovo video recensione voglio parlarvi di caramelle che sto utilizzando da più di un anno questo è il terzo anno che le sto utilizzando e mi ci sto trovando davvero molto bene sto parlando delle ricola parlo di ricola in generale e non soltanto esclusivamente di questo gusto qui queste sono quelle ai fieri di sambuco caramelle svizzera le erbe senza zucchero ovviamente conosco ricola perché è un parchio famoso fa la pubblicità in tv e quindi naturalmente chi non lo conosce questo in linea di massima nello specifico conosco ricola perché me le hanno fatte provare durante la prima dj ten qui a bari e le avevo provate un'unica altra volta però mi avevano dato una caramella da un gusto terribile infatti pensavo che fossero tutte bruttissime in realtà non è vero perché ci sono tantissimi gusti e sono appunto particolari alcune sono veramente fantastiche ricola durante la dj ten sponsorizza la dj ten quindi le danno in dotazione a chi fa la maratona infatti io ho un vasetto pieno di caramelle che oramai non si capisce più di che cosa profuma durante la mia prima dj ten ho ricevuto le confezioni in monoporzione anzi in interno di questa confezione ce ne sono due di caramelle e sono proprio quelle fiori di sambuco quando l'ho assaggiata mi è piaciuta tantissimo ora vi leggo gli ingredienti che ci sono scritti sulla confezione infatti poi mi sono andata a comprare questa confezione da 70 grammi non so all'interno quante caramelle ci siano ora vediamo se c'è scritto da qualche parte comunque ce ne sono sufficienza io ne ho parecchie ancora vediamo dove stanno ecco sono singole all'interno incartate singolarmente ovviamente con il gusto scritto su vi leggo gli ingredienti liso malto acido acido malico estratti 0,6 per cento di fiori di sambuco e della miscela di erbe ricola concentrato di succo di limone edulcoranti sucralosio sucralosio un altro nome strano aiuto eccelsulfame mamma mia non ce la faccio ma che cavolo di cos'è allora un attimo edulcoranti sucralosio eccelsulfame trattino k sapete che cosa sono io no me lo fate sapere mi scrivete qui sotto che cosa sono se sapete che cosa sono aromi naturali mentolo concentrato patata dolce carota un consumo eccessivo può avere effetti lassativi a parte i nomi strani dei di questi ingredienti che io non conosco la caramella è buona lascia un aroma in bocca una fragranza fresca ed è rigenerante mi piace assaporarle una ogni tanto mi piace il gusto che lascia è davvero buono la confezione costa un euro 70 euro e 80 io però questa l'ho acquistata da un grosso emporio che vende prodotti alimentari al dettaglio anche se è un ingrosso quindi comunque penso che la confezione se la si vada a cercare nei supermercati o nei negozi di dolciumi cosa potrebbe costare un po di più orientativamente questo da 70 grammi io l'ho pagata un euro e 70 un euro e 80 ho scelto fiori di sambuco e dice sulla confezione dice fiori di sambuco caramelle svizzere alle erbe senza zucchero con edulcoranti senza glutine loro consigliano lasciare sciogliere lentamente in bocca sentirete subito i benefici effetti della ricola ai fiori di sambuco che contiene estratti naturali di erbe balsamiche sapientemente dosati per dare un nuovo gusto è una gradevole sensazione di freschezza è una benefica delizia per la vostra gola effettivamente vero lascia se sia un po di raucia edin se sia un leggero disturbo alla gola con queste caramelle troviamo sollievo non sono curative non sono medicinali quello sicuramente però sono delle buone caramelle come dicevo prima ricola sponsorizza la dj time maratona che a bari oramai si fa da tre anni o perlomeno questo è stato il terzo anno non sappiamo se ci sarà il quarto nella sacca sia nella sacca che ci danno per parte per la partecipazione quella che si acquista per la partecipazione sia quella che la sacca ristoro alla fine della gara loro inseriscono le caramelle all'interno della sacca io ho trovato quest'anno queste sempre b ce ne sono due dentro sempre i fiori di sambuco ho trovato quella la liquirizia ma che non ci sono più perché le abbiamo fatte fuori sia io che il mio ragazzo abbiamo trovato queste qui perché ora vi leggo quali sono all'erbe ok senza zucchero ok è scritto tutto in tedesco ma non c'è scritto che gusto è dal colore è giallo potrebbe essere al limone vediamo se riesco ad annusarla e liquirizia pure questa che è nera la novità di quest'anno poi ci hanno messo anche queste miele erbe ma non dicono queste sono arancioni e ci hanno messo queste qui che sono lemon mint quindi limone e menta senza zucchero e sono quelle nuove la novità delle novità invece è questa in pratica non è altro che erba e caramello senza zucchero senza lattosio parentesi è delattosata non è senza lattosio è una caramella fatta al burro caramelle svizzera le erbe senza zucchero con edulcorante con gusto di burro sono andata sul sito ho fatto una ricerca è delattosato perché loro preparano la caramella ci aggiungono il gusto del burro e dal burro hanno estratto e lattosio quindi è delattosata una minima percentuale sarà quello 0,1 cioè l'ho assaggiata a me non ha fatto male però io ve lo dico è delattosato non è senza lattosio ingredienti isomalto estratti di melissa d'oro menta piperita rooibos non so cosa sia e dalla miscela di arbericola 1,1 per cento sciro dove sta sorbitolo burro concentrato 0,6 per cento zucchero caramellato 0,3 per cento sale emulsionante del citino di girasole edulcorante glicosidi steviolici non so dove vada l'accento aromi naturali mentolo aroma naturale di vaniglia aroma naturale di menta un consumo eccessivo può procurare effetti datativi se volete maggiori informazioni per quanto riguarda questo tipo di caramelle senza lattosio vi lascio tutto descritto sul mio sito internet www.stefaniclub.it all'interno del post che riguarderà questo video recensione sulle caramelle ricola ovviamente metterò il link al sito di ricola e le specifiche di queste caramelle senza lattosio a me le ricola piacciono tantissimo quindi che la recensione sia positiva questo penso sia chiaro fin dal primo istante che avete cominciato a guardare il video quindi il mio video termina qui mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su se vi è piaciuto il video e volete lasciar se volete lasciarmi un commento lasciatelo qui sotto vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social che sono questi che trovate qui in sovraimpressione e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video ciao e alla prossima